Ciao a tutti ragazzi, qui è Bluelight e benvenuti oggi in questo nuovo video, oggi sono qui in questo nuovo episodio di Minecraft Vanilla Allora ragazzi, nello scorso episodio abbiamo fatto un po' di esplorazione e abbiamo trovato due nuovi villaggi Ora, avere culo è dir poco, quindi è molto di più E in questo episodio andiamo... Perché ci sono sempre Kiri Reaper? Quando devo registrare? Oggi andiamo a collegare un po' questi quattro villaggi che ho con i portali del Nether E adesso, appena uccido questo Creeper, vi faccio vedere anche come, per essere più precisi possibili Allora, andiamo al villaggio dove sta il Farmer, cioè quello laggiù Allora ragazzi, eccoci qua, giunti dal Farmer Che si trova in questa casetta se non sbaglio No? In questa casetta, questa, questa, questa Che è chiusa, eccolo, bastardo E, come vedete dietro a me, ho già un portale del Nether Questo portale del Nether, appunto, l'ho fatto off camera e Appena entro dentro, guardate un po' dove mi porta Mi porta qui E, se io mi giro, là c'è il portale di casa invece Quindi sono molto, molto vicini Ora, come ho fatto ad ottenere le coordinate precise Per fare appunto un portale del Nether che spawnasse vicino al villaggio del Farmer Ho preso le coordinate X e Z del villaggio Precisamente da questa parte, perché comunque lo volevo fuori dal villaggio E le ho divise entrambe per 8 Dividendole per 8 Otteniamo due numeri E questi due numeri sono appunto le coordinate nel Nether E sono uscite 35, circa E meno 19 e meno 18 Quindi io poi da lì sono andato a meno 35 e meno 18 E ho fatto il portale Questa cosa adesso la devo fare pure per gli altri due villaggi Quindi andiamo prima in quello del deserto Andiamo a vedere appunto le loro coordinate E poi andiamo a dividere il tutto per 8 Eccoci qui nel deserto Precisamente al villaggio del deserto E come vedete ho chiuso tutto con le fence L'ho fatto come gli altri villaggi perché appunto non devono entrare zombie O comunque non devono spawnare zombie Infatti ho messo anche tutte le torce intorno Quindi andiamo a prendere le coordinate di un punto preciso E poi andiamo nel Nether Quindi più o meno verso il centro Non lo so Meno 278, meno 366 Faccio tutto diviso 8 Facendo diviso 8 viene un meno 35, 45 Quindi andiamo nel Nether e andiamo a queste coordinate E allora, meno 35 Dobbiamo andare da questa parte E mentre lo faccio vi volevo dire che Allora ragazzi, l'altro giorno In data non mi ricordo Sono andato in live Ho fatto una live di 3 ore E abbiamo giocato un po' insieme Volevo giocare anche a Pokémon in live Solo che non ci sono uscito per problemi con OBS naturalmente E poi, sempre il giorno della live Ho fatto anche uscire il video di Clash Royale Sulle mie leggendarie Perché così mi andava E poi, oggi Ho trovato anche il minatore nel baule omaggio Quindi poi ci farò un video a parte Devo andare da questa parte Questa è la mia zona dove scavo in Netherbrick Quindi meno 35, 45 di qua Ok, al termine di questo lungo tunnel Troviamo tutto ciò Quindi adesso possiamo scendere un attimo E trovare coordinate precise Quindi meno 35 Quindi qua sotto Tipo 35 E poi 45 Ok, in questa zona Mazza che schifo C'è proprio brutta Vabbè, mettiamo I nostri blocchi Che vedo di A posto No, no, l'accendino Arriaga, buongiorno Però, nel frattempo Abbiamo un portale Ora, io tipo Vengo dalla Entro qui Sì OBS Quindi qua potrei anche chiudere E qua mettere i cancelletti Però è proprio una zona brutta Madonna, che schifo Vabbè, qua farò delle scale Eleganti In Netherbrick Vabbè, poi mi spiega tutto ciò Per il momento Non voglio saperne nulla Perché comunque Vabbè Sono fatti i suoi Sono fatti i suoi Assolutamente sì Però Nel Nether A spawnare le uova Cioè Un attimo di contegno Comunque Ok, a posto Andiamo Così E poi Entriamo Vediamo un po' Se le coordinate sono giuste Mi fa enormemente piacere Enormemente piacere E siamo Sotto il villaggio Perché comunque Le coordinate sono giuste Eh, siamo Sì Io avevo detto là Siamo qua sotto Vabbè Tu per il momento Stai qua Ti metto le torce E mi salvo le coordinate Oh, buono il ferro Tiè Guarda quanto Vabbè Ho preso un po' di carbone Giusto per Andiamo al villaggio Ok, eccoci qui Anche questo Ho chiuso con le fence Ho chiuso anche i conichi Però Non so Se rimangono qua dentro Perché comunque Con un salto Escono fuori Poi c'erano alcune case Stupide Dove C'era la porta Però la porta Magari stava troppo sopra O magari sopra La montagna stessa E quindi i villager O erano rinchiusi dentro E non potevano uscire O non potevano proprio entrare E quindi Come in quel caso O come in questo caso Ho dato un po' una mano Quindi qua Possono entrare E poi qua Possono anche uscire Di qua Questi erano bloccati Perché non potevano uscire E quindi Li ho aiutati un po' Andiamo da quella parte Di qua Prendiamo le coordinate E dividiamo per 8 Quindi 9755 9 Aspettiamo Aspettiamo Spostiamoci un po' Perché comunque 9 Non è proprio il massimo Quindi facciamo un 16 Quindi poi è 2 295 Sono i numeri Anzi Le coordinate Del nether Quindi 295 Andiamo A parte questo Ponte brutto Che ho dovuto fare Per il resto Siamo un po' Meglio rispetto al primo E poi c'è pure Un'altra fortezza Da quello che vedo Quindi 295 E qui L'altezza siamo a 70 Quindi in teoria Dovebbe andare tutto bene No Quindi Ci riproviamo Allora Dopo che veniamo Da quella parte Mettiamo così 1 2 3 Pam 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 E poi Andiamo a chiudere Vediamo un po' Che dice questo Intanto saluto Anche il Wither Skeleton Che ci segue Dall'aggiù Cia Non ho frecce Cia Non lo posso tipo Rompere Cia Andiamo a romperlo Scusate Una questione Personale Oh madonna Cristiana C'era un buco Là Pensa si entrava Oddio Mi si è fermato Il cuore No Cadevo nella lava Che mi ripiava più là Oddio La vedo dei blades Cia Madonna Santa Vediamo un po' Vediamo un po' Uuuu Tattico Certo 2,95 Però Dovebbe stare Là No Perché comunque Quello era 16 7 Vabbè Vabbè Mi sta bene Mi sta bene Perché esco Esco dal nether Qui E c'è la stradina Che però ho chiuso Vabbè No va bene Va bene Va bene Ora Voi vi starete chiedendo Ma perché Ho messo tutti questi portali Blablabla Uno per collegare tutti i villaggi Vabbè Questo sarà capito Due perché Dobbiamo Spostare qualche villager Primo o poi No La vogliamo fare Questa farm di ferro O no Devo stare Con 14 pezzi di ferro Nell'inventario Perché l'ho trovato In una grotta Culo O posso anche Prendere ferro Dai nostri golem E' meglio Se li prendo Dai nostri golem No Ora Un dubbio Che mi è rimasto È il portale Quello della grotta Lo voglio spostare Ci voglio provare Allora Ho ripreso L'ossidiana Che ho utilizzato Per il portale Ora Lo piazzo qua sopra E voglio vedere Cosa succede Quindi Quindi Uno Due E tre E poi Mamma Vediamo un po' che dice Ti prego Teletrasportami Nel portale Nether Che ho già fatto Perché se no Mamma Vediamo un po' U U U U Edz Ggtn La prova del nove Vediamo un po' Se mi riporta là Yes Spawnato qua sotto Spostato qua sopra Tutto Tutto Regolare Ok I portali Sono fatti Questo è uno Dei nuovi mob Chiamato Ask Usk Quello che è Quella roba lì E cia E quindi Siamo a posto Ora Vi devo far vedere Una cosa molto interessante Che ho trovato Vicino casa Allora Mentre cercavo Del carbone Per la mia Farm Anzi Per il mio sistema Di fornaci E andando sotto La grotta di casa Ho trovato questo buco Questo buco Porta a una grotta E questa grotta Guardate un po' Dove porta A questo muro di cobblestone Fatto da me Ora Dietro questo muro C'è uno spawner Però io Non ho fatto spoiler E Non l'ho visto Non so cosa c'è Dentro questo spawner So solo che c'è Quindi non so se è di ragni Se è di scheletri Se è di zombie Se è di patate Non lo so Quindi ci andiamo insieme Allora Eccolo qui C'ho un po' Di paura Di coca Fa di scheletri Mi ezzano Mi ezzano Mi ezzano Però se faccio così Non mi ezzano Mi ezzano Mi ezzano Ok Ok A posto Uh uh Due ceste Due ceste Ehm Ossa Ehm Papping seed Coal Ferro Name tag Ehm Diamo North Armor Mi piace la Diamo North Armor La diamo al nostro Amico cavallo Mentre nell'altra cesta Troviamo Ehm Iron North Armor Ehm E poi la merda Che schifo Vabbè Abbiamo due armature E una Tag E una Name tag A posto Beh Ora Voi penserete Ma Blue Hai uno spawner Perché non ci fai la fargo E la faremo La faremo Sarà bella Se beccamo dopo Bella pette Quindi ragazzi Qua Nel buio della notte Con tre zombie Che guarda E un mini zombie Che adesso mi tirerà Tirerà le pizze Io vi dico che Per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Vi ricordo Di lasciare un mi piace Di commentare Di condividere questo video E se non l'avete ancora fatto Iscrivervi al canale Pagina Facebook in descrizione Instagram in descrizione Telegram in descrizione Quindi Ciao a tutti da Blue Light Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.